Sono entrato in questo laboratorio che faceva le prove di stesa in piccolo. Lì ci sono stato finché hanno tenuto aperto il laboratorio un paio d'anni. Nel frattempo hanno creato un centro meccanografico per la Ferragna. Allora mi hanno proposto se volevo andare lì e io l'ho accettato. Poi di lì ho iniziato a seguire una signora, la Mallarini, molto brava, che seguiva le paghe di tutta la Ferragna. Ogni volta che veniva fatta una variazione sullo stipendio, un aggiornamento della contingenza o quello che era, dovevo intervenire su questi programmi per aggiornare la cosa. Io mi interessavo di contabilità, una specie di contabilità aziendale. Seguivamo poi i beni, per esempio, i vari macchinari dove erano situati e quanto tempo avevano di ammortamento, se potevano essere ancora utilizzati o meno e si faceva tutta una storia, tutto un elenco ed ero collegato con gli uffici interessati che mi dicevano «vedi un po' questo e questa…». Prima la programmazione non veniva fatta, diciamo, a terminali o venivano perforate delle schede, le schede magnetiche. E poi a loro volta queste schede dovevano essere selezionate in un certo ordine, perché come noi parliamo le parole poi alla fine venivano sfarsate. Allora c'era una macchina selezionatrice che selezionava ogni colonna, la A, se c'era la A la metteva prima, se c'era la B la metteva prima e via di seguito. Lì c'erano delle cataste di schede che non finivano più. Poi col passare degli anni si è evoluto un po' tutto il sistema dei computer. Allora hanno collegato i vari reparti con dei terminali video dove praticamente quello che noi facevamo poteva essere fatto anche magari tramite, non dico tutto, programmazione o che, però per esempio, non so, nei vari reparti facevano compilazione dei moduli per etichettare gli assi da mandare al magazzino. veniva fatto a mano e questo lavoro l'avevo impostato in modo che potessero farlo a video, cioè andavano là, io le presentavo uno schema, loro andavano sopra, l'aggiornavano, però nello stesso tempo che loro l'aggiornavano e veniva fatto un controllo su questo, se tutto era giusto. Sono rimasto soddisfatto di quello che ho fatto nell'ambito della 3M, della Ferragna, Ferragna, Ferragna 3M, 3M, Ferragna. Grazie a tutti.